Salve a tutti da Enjoy Viaticus, ci troviamo a Città del Capo. Siamo a circa 500 metri dal parlamento importantissimo di Città del Capo che ricordiamo è una delle tre capitali del Sudafrica. Vale la pena fare un giro in questa zona, Company's Garden, abbastanza vicino al centro, perché c'è anche questo posto, Green Market Square. Si tratta di un mercato di prodotti artigianali e curiosità, quindi anche souvenir molto interessanti che riguardano il Sudafrica e il continente africano in generale. Questo luogo era fin dal 1696 un mercato di prodotti agricoli locali e ha mantenuto un suo fascino sicuramente. Non lontano da qui, proprio attaccato al mercato, c'è la chiesa metodista metropolitana che poi apre Long Market Street, l'altra strada. Quindi contattatevi per informazioni anche su questo posto molto caratteristico e molto consigliato, da abbinare al vicino Parlamento di Città del Capo. Restate collegati su tutti i canali e le pagine di Enjoy Viaticus. Siamo a vostra disposizione per il vostro viaggio su misura.